Una banda specializzata in furti in abitazione, composta da italiani e rumeni, è stata scoperta nel napoletano dai carabinieri. Il GIP di Torre Annunziata ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere a carico di 15 indagati, che devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere finalizzate ai furti, alla ricettazione e al riciclaggio. Il gruppo agiva tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino. Le indagini hanno accertato come il colpo fosse pianificato nei minimi dettagli, a partire dai sopralluoghi alle case da svaliggiare per poi organizzarsi in batterie da 4 o 5 persone e partire a bordo di macchine con targa straniera per fare razzia di gioielli, denaro, televisori, attrezzature agricole che poi portavano in depositi indicati dal cosiddetto zio, il capo del gruppo. Un uomo di 46 anni che decideva gli obiettivi da colpire, la data del furto e chi l'avrebbe compiuto, aiutato da una nipote di 34 anni. Scoperta anche la rete dei ricettatori, di cui il 46enne si serviva per ricavare il profitto da gioielli, tv e attrezzature.